buongiorno come sintonizzare la nostra tv già sintonizzata dal mio telecomando vado a premere la casetta che c'è disegnata su questo pulsante oppure su altre tv c'è scritto home premo con il cursore destra sinistra su e giù mi sposto nell'icona delle impostazioni gli do l'ok ora che cosa devo fare devo andare a fare una ricerca di nuovi canali quindi andrò nel menu canali installazione via antenna cavo noi abbiamo solo l'antenna in questo caso se avessimo anche satellite quindi la nostra parabola andrei installazione satelliti installazione via antenna metto il mio codice pin cerca canali installazione ora faccio avvia reinstallo i canali così non mi fa solo un aggiornamento ma me le installa come se fosse nuova nazione italia antenna digitale terrestre ordinamento nazionale questo significa che va a ordinarmi i canali come è stato deciso al ministero delle telecomunicazioni solo canali digitali l'analogico ormai non esiste più da anni avvia ricerca avvia ok la tv ha finito di cercare i miei canali che cosa mi dice rilevate i canali in conflitto risolverli conflitto mi sposto con il cursore su risolvi e do l'ok e qui mi viene detto vuoi vedere tg 3 veneto emilia romagna lombardia noi siamo in veneto e quindi io scelgo veneto se qualcuno abita in emilia romagna o vuole vedere il suo tg l'emilia romagna su emilia romagna il valo ok mi sposto di ok vado su fine ed ho finito ha trovato 361 canali in questo momento e qui vedo l'immagine rai 1 sul 1 rai 2 sul 2 rai 3 sul 3 e 4 e eccetera così abbiamo concluso la nostra sintonia grazie a tutti